E ancora oggi ricorda a tutti che bisogna portare l'annuncio, come dice la Chiesa, della risurrezione del Signore. Il compito dei cristiani è questo, dire a tutti con una vita buona e santa che Gesù è vivo, Gesù è risorto. Il Papa, scrivendo ai giovani, ha iniziato il suo documento del Sinodo sui giovani dicendo Cristo vive, Cristo è il vivente. Certo, questo annuncio così bello e così forte di una convertita dovrebbe anche farci riflettere. Riflettere della santità della donna e dell'uomo, del decoro della donna e dell'uomo, degli ambienti che noi frequentiamo, santuari, dove non si deve profanare con una presenza maldisposta, il luogo sacro. Ma il luogo più sacro siamo noi, anche una moda, femminile o maschile, ha i suoi limiti, ha la sua conversione. Non è detto che tutto è valido, non è detto che tutto è cristiano. Ecco, un annuncio forte, presente nel tempo, grazie a una grandissima santa da peccatrice con la conversione, la più vicina dopo Maria al cuore di Gesù.